mister allegretti 0 a 0 sul campo della casa tese cercavi risposte a mio modo di vedere sono sicuramente positive quelle che sono uscite da questa sfida sì io direi anche uno zero zero abbastanza stretto perché è vero che loro hanno avuto un'occasione dove è stato bravissimo Tosi ma io credo di averne contate 7 8 soprattutto il primo tempo dove ne abbiamo avute credo 6 limpide per fare gol unite a un primo tempo ottimo probabilmente anzi sicuramente il migliore da quando sono arrivato dove si è giocato bene ad alta intensità e un secondo tempo altrettanto buono dove chiaramente abbiamo un po' subito l'inerzia degli avversari dove è subentrata anche un po' di stanchezza ma non abbiamo mollato che era un po' il limite delle ultime gare quindi sono molto soddisfatti solidità difensiva l'unico appunto è aver avuto tante tante occasioni hai detto tu sei sette otto almeno nel primo tempo ad essere usciti ad essere andati a riposo sullo zero zero sì decisamente decisamente tante ne abbiamo avute diciamo che nel complesso c'è anche la bravura da parte del portiere che ha fatto un paio di interventi buoni arriverà il momento in cui riusciremo a essere più cinici l'importante è fare e avere tutte queste occasioni che è la cosa che conta di più grazie